E' dal 1992 dall'epoca dell'inchiesta Mani Pulite che sappiamo che il problema vero di credibilità dell'istituzione sta nella corruzione ambientale che a tutti i livelli pervade il nostro Paese e per questa ragione noi crediamo che bisogna intervenire a fondo con una riforma della pubblica amministrazione e nella pubblica amministrazione dei reati contro la pubblica amministrazione seria e profonda, è l'esatto contrario di quel che si sta facendo in questo momento in Parlamento dove addirittura udite udite nella proposta che si sta approvando in questi giorni hanno abrogato il reato di concussione per induzione, se questa abrogazione fosse avvenuta prima dell'inchiesta Mani Pulite io non avrei potuto fare l'inchiesta Mani Pulite, quei delinquenti ce l'avevamo ancora, ma che dico, ce l'abbiamo ancora. Noi non capiamo più quale sia la maggioranza di questo governo perché c'è un'ipocrisia all'interno delle aule parlamentari di Camera e Senato che rasenta la follia, nel senso che mettono la fiducia perché i partiti non possono votare provvedimenti che loro stessi sanno essere iniqui per i loro elettori, l'articolo 18 sul lavoro, il provvedimento anticorruzione, leggi sul finanziamento dei partiti e così via, e poi dovendo votare la fiducia per ragioni di politica superiore, perché ce lo chiede l'Unione Europea o un governo tecnico, sono costretti a votare l'esistenza del governo e quindi anche la legge che non voterebbe. Insomma, come al solito, fuori dall'aula si dice agli elettori che quel che sta facendo questo governo non va bene, ma dentro l'aula lo si vota solo per restare all'interno del Parlamento ancora un'altra netta sbafo. La proposta dell'Italia Valori è chiarissima. Oggi come oggi non puoi fare il vigile urbano, non puoi fare il sindaco, non puoi fare neanche il consigliere regionale se sei condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati dolosi. Mi spieghi perché puoi fare il parlamentare? Cioè se sei un delinquente non puoi lavorare nella pubblica amministrazione ma puoi fare il parlamentare. È ovvio che questa norma manda in Parlamento i delinquenti invece che le brave persone. Per questa ragione noi abbiamo proposto una norma molto semplice. D'ora in poi i delinquenti non possono essere più candidati e se vengono condannati mentre stanno in Parlamento devono decadere dall'incarico.